A portare la challenge definitiva e sfido chiunque voi, sfido altri youtuber Chiunque volesse prendere questa strada e provare insieme a me questa challenge Voglio vedere se qualcuno, se ciccio, se ninja, se chiunque Avrà il coraggio di giocare a Fortnite senza l'ausilio delle mani Fieric, tu hai lanciato una sfida ai migliori youtuber di questa piattaforma Ebbene, io l'ho accettata La sfida senza mani su Fortnite Ma giocheremo con i piedi Cercheremo di fare almeno una kill perché tu non hai fatta neanche una, sei un perdente Niente ai mani, a dimostrazione ovviamente la cam Prepariamoci i piedi Ebbene, come hai fatto tu, bisogna andare prima su gioca in qualche modo Quindi andiamo Allora devo prendere bene il mouse Mamma mia Ok Sai che è un video che verrà guardato dai feticisti questo? Gioca Ci siamo Fieric Che la battaglia reale abbia inizio Ebbene, come hai fatto tu, bisogna andare inizio Ebbene, come hai fatto tu, bisogna andare inizio C'è la tensione qua C'è la tensione Questo sfondo l'ha scelto Laura Per me Ovviamente Mi darà la forza Anche nei momenti più bui Vediamo un po' la camminata Se riesco a fare una kill così ragazzi è la fine Ok, credo di esserci È un po' molto scomoda questa situazione Dovrei riuscire a fare un'altra cosa Dovrei metterla sotto Vabbè, ci proviamo così a sto giro Poi la mettiamo giù Ok, ci sono Allora, selezioniamo Guarda lo schermo Selezioniamo la mappa E ce ne andiamo qua Chiudi la mappa Ok Viaggio Aspetta La W Mi tremano le dita Non sforzi in mano raga No, ce la stiamo facendo Può inquadrare pure a me Che tanto ci sarà la cam di Ma dai Ok Davvero? Ragazzi, sarà Un macello Sono concentratissimo Ok Sto andando in cancreno a un piede No Dai Ok Mannata, accesso del fuoco alla campola Ok Cazzo Hanno già impatto Oh C'è lo scrigno Ok, apri Apri Dami l'arma Mannaggia Ma che visual hai C'è un player Shit No Ok C'ho l'arma C Ok Ah Fanno male i piedi Crampo Iniziamo Non c'era il player Ero io Ritroviamo la canna Ok Ok Lo scudo è importantissimo Ragazzi Cazzo Che male i piedi Eh Ok Numero 3 3 E vediamocelo No No Ok 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 Ma perché costruisci? Se io voglio... Ok Ma Il Gesù Ok Ma perché non lo beve? Ce la stiamo facendo Sto morendo No è possibile giocare così Ma dai Ce la farò mai Siamo in 40... Oh cazzo Oddio L'arma Morto Loser 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 Adesso facciamo un altro setup Ok Forse avevo sbagliato qualcosa Questo è il giusto setup E me lo sento Stiamo cercando un match È fatta Ditemi che i piedi di rubaldo Non sembrano dei rastrelli Dei rastrelli Cioè guarda Guarda È l'effetto 4 o noni Nella telecamera No no Ok ci siamo E quello che c'è è che piatti Si chiamano piedi piatti per qualcosa Ok Ce ne andiamo A Tomeito Tomeito? A Tomeito A Tomeito A Tomeo Non imbruchia un tasto Sai Mamma mia Che brutti Lì che brutti Ok Stiamo andando direttissimi Questo giro Nessuno ci fermerà Ah Stiamo atterrando Un po' troppo Distanti da Tomeito Ma va bene lo stesso Giriamo un po' così Dentro Il magazzaino Ok Va bene qua Un po' di materiale Ok Togliamo la costruzione Ho detto Togliamo la costruzione Porco giura Allora uno Uno Ok Bene Non costruire Grazie Che salsicce Mi serve poter andare avanti Ma non basta Fottuta Oddio Perché non va avanti C'è il pollice È troppo grosso È troppo grosso Lo già faccio Sto fallendo la mia missione Non posso fallire Ok Continuo a costruire sto maledetto Chi cazzo vuole costruire? Chi te l'ha chiesto? Ok Basta Sti muri Vabbè Vaffanculo Però Ma cosa vuoi fare col palloncino? C'ho il dildo in mano E so come usarlo Il pompa Il pompa Ma questa È vittoria sicura Adesso lo prendo Vedio Ok ho nove colpi Dobbiamo solo uscire l'acqua Siamo in cinquanta Saliamo per la scala Perché cazzo spararà solo Dio Cazzo gliel'ha chiesto di costruire E niente Spara solo Cazzo gliel'ha chiesto Chi sono le munizioni Ok Così difficile Così vicine Così difficili Ok Ricarichiamo l'arma Col pollicione Sto sudando ragazzi Sai che pollicione si chiama albuce? Questo è un pollicione Non è un albuce Dio santo Sto sprecando tutte le munizioni Così Niente Continuo a sparare Sto minchione Non ho più munizioni Non ci posso credere Qui c'è il campo da calcio Proviamo a segnare per voi ragazzi Giusto per farvi vedere che non sono scarso Dai che facciamo il gol Almeno No Eccolo Porca Dov'è Qua Piano piano Mannaggia Ci siamo? Mamma mia Non ci sono? E' un po' Niente Sto Proviamo a vedere qua C'è qualcosa C'è anche uno scrigno qua Ok inizioni dal pompa Ricarichiamolo sto prendendo piano piano manualità nel gioco c'è anche la nuova mitraglietta lì ci proviamo a prenderla allora 1 ok prendi grazie primo player card con lo spappolo non credo forz 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 fai che qua si riprende non si molla un cazzo non si molla si molla niente porco dio ma ti alzi deficiente ma porca puttana ok siamo in pista siamo andati in safe siamo rimasti in nove olio si eric non ce l'ha arrivato mi sa il nono era arrivato molto più basso 8 8 rimasti c'è tanta bella roba da lottare ma non ce la farò c'è una macchina qua sotto proviamo a spararla c'è un player mica non ce la farò mai da qua oh 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 mi butta fanculo sono fatto anche del danno sto costruendo a caso alzati oddio 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 Grazie a tutti.